Ciao a tutti, nel video di oggi, Vittoria continua a prendere in giro papà Fedez, chiamandolo mamma. Vi lascio al video, buona visione. Comunque non è già, è beccato. No, non è già bene. 8, sì. Saremo una persona in più. Papà! Diggielo, mamma! Diggielo, diggielo, mamma! Papà! Mamma! Grazie, papà! Ma guarda, io non ho parole, guarda. Grazie a tutti.